Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 sono in programma una serie di manifestazioni che ruotano attorno alla ricorrenza di San Sebastiano, copatrono della parrocchia di Casnigo e patrono civico. In questa occasione verrà presentata al pubblico la Sacrestia Restaurata. Chiediamo al professor Bonandrini, Natale Bonandrini, studioso, ricercatore e esperto anche in storia religiosa e laica del suo paese, di dirci che importanza ha questa Sacrestia e che cosa avverrà in quei giorni. L'importanza di questa Sacrestia ormai è nota consolidata, è un'opera d'arte, un'unico nel suo genere e come tale meritava di essere restaurata e merita di essere visitata e goduta da tutta la popolazione che ha contribuito in maniera notevolissima a farsi carico delle spese per metterla a posto. Per quanto riguarda ciò che faremo in quei giorni, venerdì 20 faremo una conferenza durante la quale presenteremo i lavori di restauro con tutte le problematiche presentate dal restauratore Gritti e una minima analisi storica che vedremo di fare cercando di dare un'idea, un'inquadratura la più generale possibile del periodo in cui è stata prodotta questa opera d'arte. Sabato avremo un concerto offerto dall'amministrazione comunale, la quale così festeggia San Sebastiano copatrono civico, mentre domenica mattina avremo un pontificale al termine del quale ci sarà la benedizione e inaugurazione della Sacrestia e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 la possibilità per chiunque vorrà di poterla venire a visitare, organizzeremo anche visite guidate o comunque saremo a disposizione di quanti vorranno sapere qualcosa di più. Un flash sugli aspetti storici della Sacrestia? La Sacrestia risale sicuramente al primo decennio del 1700 è opera di Ignazio Illipront, grandissimo scultore per molto tempo confuso con i Fantoni e i Caniana e che oggi sta assumendo una propria fisionomia, una propria personalità che di sicuro non è da meno né dai Fantoni né dai Caniana quindi un grande personaggio la cui opera sta venendo avanti e che merita di essere apprezzata.